Vi saluto con la pace del Signore e ti auguro un buongiorno, oggi è martedì 2 di agosto 2023 io sono molto stanco, non so se si vede, ho appena finito di fare la doccia ma ho una stanchezza fuori dal normale, sarà il caldo, saranno i svariati impegni in ogni caso pregate per me, ecco, sostenetemi in preghiera e niente ora vogliamo ascoltare la parola del Signore che in essa possiamo trovare forza non fisica ma spirituale quella forza che ci permette poi di andare avanti, di affrontare le responsabilità, la vita, le battaglie, tutto è la parola del Signore quella che ci dà forza, nient'altro quindi vogliamo ascoltarla con un cuore umile, con un cuore sincero perché sono fiducioso che Dio parlerà al mio cuore e parlerà anche al tuo cuore quindi vogliamo subito mettersi in ascolto e dire Signore siamo qua, Amen dice così il Vangelo di oggi Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio testo che puoi trovare nel libro dei Proverbi, capitolo 2, versetto 1 e il versetto 5 il titolo di questo messaggio è questo leggere la Bibbia, due punti, consigli ai giovani credenti la Bibbia è un grande libro che parla di molte cose però non è un libro comune perché si presenta come la parola di Dio Dio ci ama e dunque vuole insegnare ad ognuno di noi ciò che è vero e ciò che è utile leggere la Bibbia può sembrare complicato ed ecco allora alcuni consigli per comprenderla meglio per prima cosa ringraziare Dio perché vi vuole parlare e chiedetegli di aprire la vostra mente e il vostro cuore per poter comprendere le meraviglie che sono nella sua parola poi un'altra cosa, leggete lentamente e attentamente rileggete lo stesso passaggio finché non avete afferrato il senso del testo riflettete su quello che avete appena letto e sulle lezioni da trarre per la vostra vita personale ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto diceva l'Apostolo Giacomo evidenziate le promesse alle quali bisogna credere e i comandamenti ai quali si deve obbedire notate gli esempi da imitare, i peccati da evitare, annotatevi man mano ciò che imparate soprattutto soffermatevi su quello che è detto dal Signore Gesù stesso perché è Lui il soggetto principale di tutta la Bibbia leggere la parola di Dio significa avere coscienza del fatto che Dio vi parla la Bibbia vi fa percepire la sua grandezza e la sua santità e vi mette concretamente alla sua presenza, imparate a parlare con Dio che è il vostro padre di quello che leggete, se vi ha parlato di sé e della sua gloria adoratelo se vi parla di voi stessi, dei vostri peccati confessateglieli lo studio attento e costante della parola di Dio vi porterà nuova luce su altri passi che sono simili e non dimenticate di ringraziare Dio per tutto ciò che avete scoperto perché se avrai scoperto qualcosa è solamente grazie allo Spirito Santo che Dio ha voluto mandare affinché possa parlare ai nostri cuori e insegnarci, ammaestrarci, riprenderci, istruirci questo è l'opera dello Spirito Santo quindi questa mattina vogliamo dire Signore grazie con tutto il cuore e se magari uno di questi consigli che abbiamo appena ascoltato non fanno parte della tua vita ecco io ti consiglio e poi chiudo di meditare su questo video, su questi aspetti su questa parola che ci è stata rivolta perché sono consigli utili, buoni per poter crescere nella fede per poter maturare, per poter comprendere tante cose ad esempio ciò che Dio vuole ma anche ciò che Dio non vuole sono cose importanti quindi sottolineo ancora di più il consiglio che è stato dato questa mattina ascoltiamo questi principi e mettiamoli in pratica il Signore ti benedica, buona giornata e veramente che la pace di Cristo possa accompagnarti in tutto questo giorno e possa fare di te uno strumento potente nelle sue mani ci vediamo domani al solito appuntamento pace di Gesù grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti